Gollini cerca di richiamarli all'ordine, ma ovviamente senza successo. Sì, bravo, bello, bravo. No, 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 no. Ma che schifo! Berry, 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 Berry. Gollini è già stremato, ma non ha visto ancora niente. Berry, Berry. Ecco, appunto. Stai a che tu vuoi? Non butto mai nulla. Ma non la metti in ritegno, ma fai a che schifo. Già li odia profondamente. E dopo aver messo già a soquadro mezzo ristorante, finalmente arriva il cibo. Ed ecco i primi con scampi e aragosta, i secondi di carne. Ma prenderò un momento di no! E i secondi di pesce. È veramente schifo. Allora, allora. Lo sa, lo sa, e ne va pure fiero dello schifo. Allora, adesso. Baci, baci ovunque. Ma a chi li manda i baci? A gente che neanche si gira? Ma ci avrà qualcosa di normale questo qua? E poi la storia. Siamo qua con il gollo! Questi pecono tutto tranne che l'acqua, incredibile. Agli invidiosi, alla gente che ci vuole male. Andate lì a fare il culo! Ciao! Ciao! Grazie a tutti